Parliamo di obiettivi politici e della possibilità di ridare a questa città che lo merita una grande opportunità di rilancio in termini di sviluppo economico e sviluppo sociale. Questo a noi interessa. Interessa costruire una squadra che nel rispetto al principio di legalità, che offrendo alla cittadinanza un'azione pubblica in piena trasparenza, offre un futuro a tutti i nostri giovani qui a Foggia, anziché all'Ord o all'Estero. Una squadra ovviamente che rispecchia i nostri principi e i nostri valori. Quindi è inutile che mi chiedete nomi adesso, è inutile che ci chiedete adesso dei nominativi. Con chi la squadra? La squadra è con tutte le forze, anche politiche, oltre che civiche, sane, che possano ovviamente mettere da parte sistemi clientelari, che metteranno da parte ovviamente quelle tentazioni di prendere delle scorciatoie. Ma deroghe eventualmente per un europarlamentare o per un assessore regionale ce ne sarebbero da parte sua? Guardi, deroghe noi non ne facciamo. Noi applichiamo i nostri principi, i nostri valori e sulla base di questo ovviamente ragioniamo. Siete qui vai parlando?